Le migliori leggi europee per le donne è il titolo del convegno organizzato dal coordinamento Donne Italia dei Valori Puglia presso il salone di rappresentanza della provincia di Brindisi alla presenza dei maggiori rappresentanti regionali e provinciali dell'Italia dei Valori di donne esperte in pari opportunità e politiche di genere e della senatrice Giuliana Carlino titolare dell'iniziativa e membro della commissione di valutazione delle leggi europee. Un gruppo di esperti ha infatti studiato le legislazioni di vari paesi dell'Unione Europea selezionandone 14 da proporre al governo per migliorare le condizioni delle donne non solo nel quadro politico ma in ambiti tali dove le conquiste femminili sono ancora latitanti. Il nostro evento non è per le pari opportunità come storia ma vedere le leggi che a livello europeo sono più importanti per le donne e ci sono leggi guarda caso di tutte le nazioni purtroppo manca l'Italia perché le leggi migliori purtroppo le hanno fatte gli altri stati però siccome noi dobbiamo fare un unico corpo, un unico grande stato ce ne avvantaggeremo tutti quanti e noi le divulgheremo per Brindisi e per la nostra regione. Poi le quote per noi non devono essere quote rosa perché donne si è a 360 gradi noi non abbiamo bisogno di quote, noi siamo combattive tutto il giorno e fondamentalmente vogliamo fare da apripista per le altre donne che verranno dopo di noi. Oramai io personalmente ho la mia reverenda e bell'età per cui nella mia vita ho testimoniato sia nel mondo del lavoro sia nel sociale cercando sempre di pensare agli altri, a quelli che vengono dopo di noi.